All'inizio è stato un po' barcollante perché abbiamo fatto appunto tre ore all'itis, ogni giorno abbiamo perso parecchie ore di laboratorio, soprattutto i ragazzi di terza, cioè del triennio che devono fare gli FP e quindi si sta cercando di recuperare anche queste ore. Non sono ancora rientrati in classe, siamo al 10 di gennaio, gli oltre 500 studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, dopo il crollo di un'aula prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli studenti dei vari indirizzi professionali stanno facendo lezione fuori sede. Il primo crollo è il 5 settembre 2023, cadde il controsoffitto in un'aula ma la scuola era ancora chiusa per le vacanze estive, il 3 novembre un secondo crollo, per fortuna nessuno rimase ferito. Delle classi erano rientrate al Marconi inizialmente e al loro rientro sono caduti dei pezzi di soffitto quando invece la sicurezza doveva esserci. Da allora gli studenti, circa 600, sono stati sistemati in tre sedi provvisorie tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno, ma oltre ai problemi di spazio e riscaldamento c'è una problematica su tutte le ore di laboratorio. A noi di moda ci è andata bene perché alla fine noi laboratorio lo facciamo però con meno macchine da cucire perché prima ce n'erano 20 e adesso ne abbiamo 6 o 7 e i ferri da stiro non sono quelli industriali e non abbiamo neanche la pressa e anche nel triennio chi fa fisica non la può fare in laboratorio anche neanche chimica. E invece i ragazzi del San Lorenzo, appunto meccanici ed elettrici, sono quelli più messi male. Il Marconi essendo ancora chiuso, i laboratori di meccanica non possono essere spostati perché attaccati a terra, il torneo non lo sposti. Dopo il mancato rientro a scuola lo scorso 8 gennaio la polemica è salita ancora di più. L'ente competente è la provincia di Arezzo e proprio di fronte alla provincia i ragazzi a fine dicembre avevano protestato. La rabbia maggiore che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto è quella proprio di non avere la sede o che a volte magari non ci siamo sentiti davvero ascoltati da chi doveva ascoltarci. Abbiamo effettuato i lavori di messa in sicurezza delle aule agili nella sede dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno e abbiamo terminato i lavori il 7 dicembre 2023, dichiara il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, consegnando tutta la documentazione alla scuola. Questa sera avremo una riunione con scuola, alunni e genitori a cui daremo tutte le informazioni tecniche del nostro intervento per la trasparenza e la correttezza dovuta. Intanto dal sito del comprensivo Isis Valdarno è stato pubblicato lo scorso 8 gennaio un bando per cercare un nuovo RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione, figura essenziale in materia di sicurezza a cui ogni datore di lavoro, in questo caso anche un dirigente scolastico, deve fare riferimento prima di qualsiasi decisione. Grazie.